Signori, Il Cacciatore, film del 1979, con un bravissimo De Niro, Mary Streep, bravissima, un cast che riconoscerete tutti. Comunque, è diviso in tre parti, la prima un po' noiosetta, secondo me, fatta bene ma poco intrigante, la seconda molto intrigante e la terza, sì, va a chiudere il film, forse un po' troppo lungo. Voto medio 8, però ha delle punte da 8,5, la prima parte secondo me era bruttina, pallosetta, 7,5, comunque voto medio 8 e basta così un'occhiatina che si può dare. Un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un bel like. Ciao ciao!